I venditori ambulanti di Palermo sono tornati in piazza contro le nuove regole imposte dal sindaco Leoluco Orlando. Chiedono la revoca dell'ordinanza firmata il 3 maggio scorso dal primo cittadino, che vieta agli ambulanti di svolgere le loro attività nelle vie del centro e in altre zone turistiche della città. La manifestazione è stata promossa dagli attivisti dell'associazione 3 febbraio e socialismo rivoluzionario. Crediamo che sia un attacco alla dignità, al diritto al lavoro, persone che lavorano, che pagano le tasse, che lavorano con grande dignità e onestà. È un attacco in particolare al settore immigrati, perché c'è una comunità, in particolare quella del Bangladesh, che è impegnata sulla vendita ambulante. E fare un'ordinanza del genere significa cacciarmi via, cacciarmi via dalla città perché non hanno cosa altro fare. A meno che non li vogliamo vedere rubare, ma io non credo che questa città voglia questo per le nostre persone. Sabato pomeriggio alcuni venditori avevano dato luogo a un'altra azione di protesta. Una decina di ambulanti bengalesi si erano piazzati con le bancarelle in via Cavour, uno dei luoghi vietati alla vendita in strada, resistendo ai richiami dei vigili urbani.